un caro carissimo saluto a tutti quanti oggi signori Epic Games ci fa un grandissimo regalo e ovviamente solo nei casi eccezionali sapete che io vi indirizzo su quello che secondo me è una cosa top premium e in questo caso Guardians of the Galaxy assolutamente quindi andate su Epic Games, fate un bello tieni, scaricatevelo, giocatevelo e assolutamente installatelo e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate perché secondo me, se ovviamente non l'avete già comprato, questo è ovvio è un titolo purtroppo molto sottovalutato e invece merita davvero tanto soprattutto perché adesso che è gratuito, cioè non si può assolutamente lasciarlo sullo store grazie a tutti, alla prossima e ciao